Si sono conclusi i lavori della consulta delle ragazze e dei ragazzi 2019 formata dai studenti di seconda media delle scuole del territorio frentino, la quarta consulta che ha lavorato per portare in consiglio comunale proposte legate al mondo dei giovani. Il lavoro di quest'anno si è concentrato sul tema dei diritti, il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono 11 le proposte portate in consiglio comunale dalla consulta formata quest'anno da 40 ragazzi, due per classe, i quali si sono fatti portavoce delle proposte dei voti dei loro compagni. La prima proposta rivolta al consiglio ha riguardato la creazione di un percorso vita nei parchi maggiormente frequentati dai ragazzi come il parco Bucci per permettere anche a chi non è iscritto a qualica società sportiva di praticare l'attività fisica. Una seconda proposta ha rispolverato una questione molto carne negli ultimi anni ai genitori ovvero il peso eccessivo degli zaini scolastici e dei libri. I ragazzi hanno quindi chiesto armadietti nelle scuole dove poter riporre i testi alleggerendo così il peso da portare sulle spalle. La terza proposta torna sul tema del tempo libero avanzando l'idea di piste da rollerblade e skateboard sempre all'interno delle aree verdi della città. La quarta proposta riguarda la creazione di una piattaforma online solo per ragazzi dove i giovani possono fare conoscenza e socializzare online per poi conoscersi meglio e giocare insieme nella vita reale e si ricollega alla sesta e alla settima proposta che chiedono di istituire dei laboratori sempre con l'obiettivo di mettere i giovani in contatto o creare un luogo dove gli studenti possono incontrarsi per fare insieme i compiti. Quest'ultima interpellanza ha poi dato il via libra alla decima mozione per la costituzione di una vera e propria casa dello studio alternativa all'opzione dei toposcuono scolastici. La quinta mozione è una richiesta di miglioria dei vari impianti sportivi della città. Nell'ottava mozione la consulta ha chiesto più piste ciclabri, la riparazione delle strade, il rispetto delle regole del codice della strada e la costruzione di colonine elettriche per la ricarica dei veicoli. Anche la nona richiesta segue un orientamento più sostenibile della vita chiedendo di incentivare il riciclo dei rifiuti e aumentare il numero di alberi. L'ultima proposta dei ragazzi ha chiesto a sindaco e consiglio comunale di aumentare le ore di informatica in classe e di sostituire i libri cartacei con strumenti tecnologici come i tablet per diminuire l'impatto sull'ambiente e migliorare le competenze informatiche.